Ciao a tutti appassionati di Anime Manga, sono Alex, come sempre video seguimi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche in Google Tagging per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare la recensione di Nino Kuni, l'erede della luce del principe gatto, edito della Gink, prezzo 12,90€. E' uscito anche il confanetto, che ancora non ho capito perché, costa 29,90€, quindi mi fa pagare di più, mi fa pagare molto ma molto di più. E questa cosa non ho capito, quindi già solo per quello vi dico, dipende dai sciolti perché sono usciti anche i sciolti. C'è il videogioco per telefonini, per cellulari. Ciò ho giocato, forse quest'estate, ad agosto, per una settimana poi, vabbè, mi ha annoiato perché sempre stesse cose ripetitive, ecco. Quindi non mi ha entusiasmato, non mi ha coinvolto fino in fondo. C'è questo Tasuku, protagonista, un semplice ragazzo che pratica Kendo, che ha perso i tre amici genitori e l'unica sua famiglia, l'unica sua ragione di vita è il suo fratellino, che si è salvato per miracolo da quell'incidente ed è tutta la sua vita alla fine. Vediamo che è molto allergico ai gatti e a un certo punto compare un personaggio, un losco figuro vestito di nero con una spada che cerca di farlo fuori e si apre una voragine ai loro piedi e compaiono i ninno kuni, ter mondo 2, che è un pianeta, è un'altra dimensione a sé stante e però appunto finiscono in questo mondo. Questo losco figuro che si chiamerà, che è l'ex principe rosso di Gatmandu, ha le orecchie da gatto e una coda a gatto, quindi capite bene che essendo allergico sarà allergico anche lui e gli dirà che lui sarà destinato a salvare il mondo perché Tazuku ha la nulla magia, non sapeva di averla però ha questa specie di potere che riesce ad annulare tutte le magie con cui entra in contatto e quindi c'è una creatura, un mago che ha usurpato il trono a rosso e che ovviamente lo rivuole e che è un mago potentissimo e quindi il rosso ha preso per appunto, è riuscito a portare nel suo mondo Tazuku proprio per farlo scontrare, gli dice se vuoi tornare nel tuo mondo devi per forza uccidere questo sham, questo mago potentissimo. Ci saranno altri personaggi, scopriamo che esistono le anime affini, cioè che se ninno kuni, che è il nostro mondo, esistono delle persone molto simili, con caratteri simili, che se uno delle due muore in un mondo, muorerà anche in quell'altro e quindi qua vedremo più avanti come si evolveranno da questa cosa, che si evolveranno le storie. C'è un primo volume, mi sembra abbastanza banale, piatto, cioè come tanti altri, poi alla fine, le ultime pagine, shock, cioè rivelazioni, e il secondo volume l'ho letto molto più, con molta più voglia, ecco. Proprio perché ci è lasciato quelle rivelazioni, il secondo volume è decisamente migliore del primo e non tutti i personaggi sono come appagliano, come sembrano all'inizio, hanno personalità davvero multiple sfaccettate, in particolar modo rosso, che non è come ti aspetti, resti, e alla fine è anche abbastanza cruento, ci sono alcune inedità davvero forti, magie, è un mondo comunque fantasy, quindi creature particolari, magie, colpi di spada, carino lui, ma niente di che, sinceramente, per il prezzo che è, io non lo consiglio. Ci sono altri, ma anche che costano di meno, se volete questo genere. Forse è stato fatto per lanciare il videogioco, probabilmente, il gioco online, carino, ma niente di che, come ho già accennato, quindi non mi è entusiasmato. Poi non so se magari avete letto e invece per voi è piaciuto, però secondo me, per il prezzo che è, sono soldi buttati. Ok, può piacere il genere di Sekai, fantasy, magari c'è una tipa, c'è anche un altro motivo, perché ci sono tutti e due lo sbando, credo, penso, e quindi magari potresti guardare anche quel motivo lì, però ecco, niente di che, tranne il secondo volume che, come dicevo, ha, è un livello, secondo me, molto più alto rispetto al primo, però se faccio le metà tutte e due, 7,5, 7,7 e mezzo, ecco, più di questo non riesco a dargli, sinceramente. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, noi ci vediamo ai prossimi video. Grazie. Grazie.